ciao a tutti oggi prepareremo le trofie al forno con funghi e pancetta il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono trofie pancetta funghi besciamella zafferano parmigiano grattugiato olio evo sale pepe noce moscata e aglio andiamo in via alla ricetta cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente mettere nel boccale l'olio e l'aglio ed insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio dal boccale aggiungere la pancetta ed azionare il bimbi per tre minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere i funghi e cuocere per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere la besciamella lo zafferano lo zafferano il pepe il sale e la noce moscata ed azionare il bimbi per due minuti 100 gradi 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere il parmigiano e ad azionare il bimbi per un minuto anti orario velocità soft condire la pasta e trasferire in una pirofila ben imburrata spolverizzare con abbondante parmigiano e cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa trofi al forno con funghi e pancetta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti